A Ferragosto erano presenti 757 detenuti, oltre ad un bambino di soli 7 mesi che, rapportati alla capienza regolamentare, porta ad una percentuale di sovraffollamento del 170%, che nel reparto giudiziario maschile raggiunge addirittura il 200%. Sono numeri e criticità riguardanti le carcere di Solliciano resi noti dal direttivo della Camera Penale di Firenze. Abbiamo parlato con molti detenuti, hanno affermato i penalisti, illustrando la lunga lista dei problemi riscontrati, ed è emerso come purtroppo vi sia un incremento della somministrazione delle benzodiazepine anche in soggetti che mai ne avevano fatto uso. Inoltre, ogni parte della struttura è invasa dall'acqua che filtra anche dal terreno ed emerge con le piogge, essendo il carcere costruito sopra ad una falda. In tutte le sezioni l'acqua fuoriesce dagli sbocchi delle docce ed esonda invadendo celle e corridoi. Sulla fronte della rieducazione, sul totale dei detenuti ci sono soltanto 5 educatori, l'accesso al lavoro è permesso con turnazione ogni 8 mesi, le attività sono inesistenti, le celle restano chiuse circa 22 ore al giorno e ogni bene del sopravvitto costa in media il triplo del normale acquistabile in un supermercato. Oltretutto, circa 50 posti sono inagibili e le celle sono colme di rifiuti coperte di guano o di piccione. Chiunque abbia parlato con noi ci ha ripetuto Io ho sbagliato ma non per questo devo patire, ha concluso la Camera Penale Fiorentina, sottolineando che la condizione delle persone detenute è riassumibile in una sola parola, abbandono.